Arriva un'altra importante vittoria per il volle soverato che nel match valevole per la non aggiornata del campionato di Serie 2 Girone B si impone in trasferta conquistando l'intera posta in panio. La compagine biancorossa ha infatti spugnato l'ostico campo di Vicenza con il punteggio di 3 a 1, parziali 29-31, 14-25, 25-20, 20-25. Una prova importante compagine biancorossa che con questi tre punti si assesta al secondo posto solitario in classifica dietro la capolista Roma. Una squadra solita si è dimostrata quella di coach Chiappini che continua a stupire in questa prima parte di stagione. Grazie! Grazie!